facciamolo andate senza di me e e e e e e e Tutto bene, compagniere? Tutto bene, compagniere? La rivoluzione canserà! Piloto io! Ci sono, via! La rivoluzione canserà! La rivoluzione canserà! La rivoluzione canserà! Giù, prima che ti vedano. Apro il fuoco su questi strozzi. Il bastardo sa che qualcuno lo vuole uccidere. Cazzo, è morto. Non possiamo intimidire i morti. Merda, ci hanno visto. Fatemi da lì. Guardate, una cassa d'armi. Faremo trovare i rifornimenti ai ribelli. Ci ripagheranno in seguito. Andate a trovare perico a casa sua, a Todos Santos. Se è lì, portatelo dentro, altrimenti cercate qualcosa di utile. Guardate, guardate, guardate. Viasta per saldare! Guardate, guardate. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci sono un sacco di luce interruttori qua su Via via Caraccio, non si stanno cercando, cúbrate! Sanno che siamo qui Il tenente è in fuga E la caverai, hai capito? Sto arrivando Porca merda Checchino! Granata, stocchio! Granata, granata! Sei fuori forma, a riparo! Abro il fuoco! Granata! Granata! Porca vacca! Arrivano le truppe dell'unità Checchino! Checchino, a terra! Granata! 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 Via! Granata! Via, via, via! Perico non c'è! Perico non c'è! Recuperiamo tutte le informazioni che possiamo! Ci siamo! L'unità sta sparando al cartello! L'unità sta sparando al cartello! Il loro tenente fugge! In 20 inoltre è riusciti! Sin Robi! La sua legna! La sua legna! La sua legna! La tua legna! Anche la sua legna! Inoltre la sua legna! Uff! Unico! 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 E la sua legna! Tronati! L'unico! Unico! se una specie di progetto un'antenna frattale forse se perico sta usando l'antenna frattale per le trasmissioni quel disegno dovrebbe aiutare gli s a risalire la sua posizione possiamo andare a 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 c'è un arco laggiù alla torretta attivo il drone il drone è andato colpa delle interferenze questo posto è deserto forse è scappato forse l'ha avvertito qualcuno del nostro arrivo ma sta ancora trasmettendo bowman siamo alla stazione perico non c'è ma qui stanno ancora trasmettendo usa la stazione come ripetitore non possiamo violarla senza la chiave di codifica usate il drone per una scansione delle antenne i nostri esperti possono usare i dati in arrivo per trovare la sua posizione roger della telefonata con bowman ho capito solo scansione dell'antenna teniamo fermo il drone fino alla fine della scansione c'è una brutta interferenza non mi piace ci sarà un jumper in zona dovete trovarlo e distruggerlo per poter individuare le antenne di perico ok due sicari nel mirino ditemi dove guardare ok 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 i Grazie a tutti. E' indietro, ti vedono. Vedo un secondo bersaglio. Ok, ancora tutto bene. Ho avvistato un sicario vicino al container, vedete? Ci sono un paio di narcos, dove c'è la cassa dell'attrezzatura. Non andate, siate di scuola che, se siete più timide che bastarde, non vedrete mai dove sono io. Non andate, non andate. Scansione completata. Spero solo che i tecnici riescono a trovare perico. E' questo? Non andate. Non andate. Non andate. Non andate. Non andate. Non andate. Grazie a tutti. Buone notizie. Grazie ai piani che avete trovato e alla scansione, sappiamo che Perico usa un programma di agilità di frequenza per criptare il segnale verso il ripetitore. Ma per dirottare il segnale per la trasmissione di pack catari ci serve la chiave di codifica? Sì. Abbiamo abbastanza dati per darvi l'area dove si trova Perico. Fategli una visitina e mettete le mani sulla sua chiave di codifica. Bohman ci sta mandando le informazioni su DJ Perico. Sappiamo dov'è Perico. Prendete quel bastardo e fatevi dare la sua chiave di codifica. Trasformeremo Bucion Radio in Radio Bolivia Libera. Nomad. Abbiamo scoperto un veicolo che sta portando riproduzioni preziose al mausoleo di El Sueño. So che non è compito vostro. Afferirebbe il suegno nell'orgoglio. Ok. Se riusciamo distruggiamo il convoglio prima che arrivi al tempio personale di El Sueño. Possiamo andare. Ok. 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 Ehi! Cazzo, ci hanno beccato. Vado. Le truppe del Carnaello ci stanno attaccando. Vado. 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 Le abbiamo fatti in nervosire. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Abbiamo fatto un bel casino. Grazie. 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 Grazie.